Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Se io non fossi tuo, o mio Cristo, mi sentirei creatura perduta. Sono nato. Ho vissuto. Ma ora sento che declino. Mangio. Dormo. Riposo e cammino. Mi ammalo e guarisco sono preda di desideri e sofferenze. Godo del sole e di ogni frutto della terra. E presto morirò diventando polvere. Come la polvere di ogni creatura. Ma tu sei mio Dio. Ora è oltre la morte. Tu sei il vivente. E io vivo e vivrò in te. Se io non fossi tuo, o mio Cristo, mi sentirei creatura perduta. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.